la frase che ci piace un po' come mantra di questa stagione ovvero l'educazione non passa mai di moda una frase che avete sentito tra l'altro nella nostra nuova sigla abbiamo cambiato anche quella e ringraziamo tra l'altro Massi per l'audio con cui ha arricchito il nostro staccato iniziale e ringraziamo in particolar modo Heidi che anche in questa season 3 cura le nostre grafiche quindi grazie davvero per la pazienza e la creatività Andrea, io andrei in chiusura per questa prima puntata abbiamo buttato lì parecchie cose nel senso che abbiamo ripercorso un po' questi nove mesi di lavoro come due imprese sociali abbiamo un attimino anticipato quali saranno i contenuti o quantomeno lo sviluppo della season 3 abbiamo preso un po' di posizioni quindi io mi sento anche abbastanza a posto così sì, io volevo ricordare a te e anche ai nostri ascoltatori che abbiamo un sito internet, l'avevi già detto prima, nuovo www.e2impresasociale.com e inoltre abbiamo due social sì, abbiamo due canali social o meglio abbiamo deciso di usarli in questo 2022 ne abbiamo quattro ne abbiamo chiusi due in un anno adesso vediamo se quest'anno riusciamo a chiudere anche queste abbiamo Instagram e LinkedIn quindi cercateci su lì ecco c'era un'altra cosa che non mi ricordo più ah, abbiamo anche una mail quindi se volete mandarsi dei feedback a questo episodio info, chiocciola, eduimpresasociale.com qualsiasi tipo di informazione che ci volete chiedere o feedback su quello che è un po' il nostro lavoro ben venga vi ringraziamo e ci vediamo la prossima puntata buona giornata a tutti bravi ragazzi voi non educate la mente educate il cuore ciao eduwey un bacione